Verrà attivato a breve nel comune di Martinsicuro uno sportello dove far incontrare domanda e offerte di lavoro. Sì, lo sportello e il progetto trattasi di un'idea che è partita già dalla campagna elettorale, è quella di implementare ed arricchire già servizi esistenti sul territorio, quelli dello sportello lavoro. In questo caso noi ci siamo attivati per poter sviluppare delle collaborazioni con associazioni di categoria come la Conflavoro e inserire dei servizi attuali che sono quelli della domanda e offerta e formazione per i giovani e soprattutto per quanto riguarda i bandi europei e nazionali per informatizzare e monitorare questi bandi e dare in tempo reale le risposte ai cittadini. Il progetto è un punto di partenza, una piattaforma che è in fase di realizzazione e di costruzione. Noi quello che ci ospichiamo è partire con questo passo per via via poi incrementarlo e arricchirlo con i servizi e con le attività. Non abbiamo la bacchetta magica, quindi non risolviamo i problemi attuali che sono quelli del lavoro e della disoccupazione, però sicuramente sarà un lavoro di aiuto e sostegno per i nostri cittadini. Si terrà domenica presso la sala consigliare di Martinsicuro un convegno per spiegare proprio di questo sportello e delle nuove opportunità di lavoro. Sì, un convegno importante, un'opportunità che mettiamo a disposizione sia della Conflavoro ma anche della pubblica amministrazione e delle imprese che sono già presenti sul territorio, dove verranno presentati degli strumenti innovativi, dove si cercherà di creare una nuova cultura imprenditoriale, per cui domenica 13 maggio alle ore 17 vi aspettiamo per sviluppare insieme una nuova sinergia. In che modo Conflavoro opererà? Beh, avremo a disposizione una struttura messa appunto a disposizione dall'amministrazione comunale, dove noi saremo presenti al momento per due giorni settimanali, probabilmente il martedì e il venerdì. Lì accoglieremo gli imprenditori e i cittadini che in qualche modo possono presentarci quelle che sono le loro esigenze e le loro criticità e i cittadini invece portare alla nostra visione quello che è un curriculum per poi poterlo inserire in un applicativo che è denominato Synapse Jobs, con il quale andremo appunto a incrociare quello che è la domanda e l'offerta per poi poter in qualche modo segnalare all'azienda che ricerca quel tipo di profilo preciso il candidato.